EOS 6D Il modello superiore, la 5D Mark III, pesa 770 grammi. Nonostante questo le funzioni ci sono tutte ed è addirittura una camera superiore alla 5D Mark II. Il mirino oculare ha una copertura del 97%, il sensore è da 20 megapixel gapless, il sistema autofocus ovviamente da questa immagine qua non si vede però è a 11 punti dove il punto centrale ha una sensibilità di meno 3 e è un punto a croce. Quindi rimontiamo l'ottica, vi facciamo vedere rapidamente il menu perché tra le novità di questa camera c'è anche il wifi e il GPS integrato. GPS ovviamente per il geotag delle foto, il wifi per condividere le foto, inviarle a un computer o uno smartphone e soprattutto per controllare la camera in remoto. Funzione questa molto utile, soprattutto se si usa la macchina in studio. Vediamo anche da questa immagine la disposizione sul retro delle varie ghiere. Anziché al posto del piccolo joystick in alto Canon ha inserito il joystick nella ghiera centrale, ma il sistema EOS c'è tutto, quindi ghiera davanti per gestire i diaframmi e ghiera posteriore per gestire i tempi e i diaframmi a seconda della modalità scelta di scatto. Ci spostiamo invece sul wifi, vediamo le possibilità offerte, sono 6, si gioca ovviamente col joypad e si può trasferire l'immagine tra due 6D, si possono caricare file su web, stamparli, collegare la camera a uno smartphone e controllare la camera in remoto tramite EOS Utility. Una fotocamera sicuramente completa, migliore della 5D Mark II, proposta anche a un prezzo più basso della 5D Mark II. Ovviamente non è la Mark III e non è neanche la camera destinata a chi deve fare il grande salto verso il full frame, l'investimento infatti iniziale anche per le ottiche è abbastanza importante.